Venerdì parte la staffetta Ardesio Roma. Sulle vostre magliette le immagini di sei papi. Perché? Perché l'anno scorso abbiamo fatto la staffetta, siamo partiti da Ardesio e siamo andati in Polonia e abbiamo visitato i cinque papi. Papa Vojtiwa, Papa Ratzinger, siamo andati da Papa Luciani, da Paolo VI e a Sottomonte da Papa Giovanni XXIII. Quando noi abbiamo deciso di fare la staffetta c'era ancora Papa Ratzinger e quando è stato eletto Papa Francesco abbiamo deciso che quest'anno saremmo andati da lui. Come si svolgerà quest'anno la staffetta? Quest'anno la staffetta, a differenza degli altri anni in cui si correva solo lungo il ritorno, correremo sia all'andata che al ritorno. Quindi la staffetta sarà Ardesio, Roma Ardesio e all'andata passeremo lungo la costa adriatica, quindi faremo tappa a Rimini, passeremo per il santuario di Loreto, approfitteremo per guardare anche le grotte di Frassassi, una giornata d'assisi per poi arrivare a Roma. Lì saremo di mercoledì a Roma, speriamo poi di avere l'udienza presso il Papa Francesco e giovedì partiremo poi per tornare verso Ardesio, quindi passeremo poi dalla Toscana, faremo tappa a Prato per poi arrivare a Paladina e da lì passeremo per Passo Zambla e arriveremo ad Ardesio. E com'è organizzata questa staffetta? Allora siamo divisi in tre pulmini, quindi il percorso della giornata viene diviso in tre parti e ognuno corre alla volta un chilometro, per cui parte il primo, intanto il pulmino va a lasciare il secondo staffettista, mentre aspetta che arrivi il primo. E poi la sera ci si ritrova tutti al campeggio. Quindi in quanti sarete? Quest'anno saremo in 31, 27 che corrono, poi c'è un signore che guida il camper e tre signore che fanno da mangiare, preparano i pasti per gli atleti. Il più giovane degli atleti a 13 anni e diciamo il più vecchio per modo di dire è il nostro caro Silvano che vorrei molto ringraziare per l'impegno che ci mette con queste staffette, è anche capace di tenere molto unito il gruppo e lo ringraziamo ancora. Vorrei fare anche un ringraziamento a Nicola, detto lungo per gli amici, che si impegna molto con il computer a preparare tutte le varie tappe, organizza bene la cosa anche lui. E ringrazio anche tutti gli atleti che verranno a correre. Quindi ricordiamo quando si parte? Si parte venerdì 29 agosto, ci ritroviamo alle 7 e mezza al santuario della Madonna delle Grazie per una piccola benedizione e poi gli atleti partiranno per la loro destinazione. E domenica 7 verso le 17-17.30 presso l'oratorio di Ardesio.